Siamo in compagnia di una giudice molto importante e molto famosa, Orna Shai. Grazie a te, grazie a te anche a te. Siamo da Israele? Sì. Siamo da Yezolo, dalla prima competizione. È una fantastica, fantastica, alto-level competizione. È una buona opportunità di giudicare le migliori bambini del mondo. Sono molto felice di venire qui. Questo è come un modo mondiale in un modo amministrativo. È un modo amministrativo, ed è molto importante per i giudici e i giudici, per avere i migliori giudici, per sapere dove erano, e cosa devono fare meglio e migliorare. Questa competizione è molto bella, in una buona atmosfera, e abbiamo cercato di fare il nostro meglio per loro, non per ottenere una medalla più o meno. Per ottenere la qualità, la perfetta artistica. Artistica e tecnica. E perché è una competizione amministrativa, possiamo giudire molto caldo e professionale. Perché è molto importante per i giudici, per i giudici, per i giudici, per il nostro corso europeo, che sarà inizia al primo anno di avril, e il nostro corso europeo in Stuttgart. È molto importante. Quindi è il momento per cui bisogna sapere cosa deve migliorare, cambiare, per farlo meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E per quanto riguarda la tua vita, come giudice? Non è un lavoro facile? Sono giudice per molti anni. Sono in categoria 1 giudice. Nel campionismo europeo, sono anche supervivenza. Ho fatto cinque Olimpiadi. Sì, cinque Olimpiadi. Sono anche D1 in Londra. Sì. E ho lavorato tutta la mia vita come giudice. E ho anche giudice per una grande competizione, con molta esperienza. Come giudice, lavorate in Israele? Sì. Ho lavorato in un centro nazionale, in Tel Aviv. Abbiamo un grande club in Israele, con molti giudici, i giudici, e i giudici. e la combinazione di lavorare ogni giorno nel gym, lavorare con l'UEG, nel comitato, e giudici, e anche insegnare in università. Tutta questa combinazione. ora, i ragazzi, sono qui senza te? No, ho la mia figlia, che è il giudice. Abbiamo i giudici, che lavorano con noi, come giudici, come giudici. Ex-gymnastici, e ora sono giudici. i giudici, e lavorano anche quando sono qui. Ecco. E... i giudici, i giudici, i giudici. vive in Israele. Ok. E ora, una settimana in Brescia, e poi, si arriva, e si arriva, nei campi di trenazionale. Per il trenazionale. l'Italia? Ok. L'Italia, anche il trenazionale. L'Italia, Pesca Italia. Per i attivisici, Per i attivisici. Per i attivisici, Your voice, it echoes in my mind 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 One question, is it, your job as a judge is very, very difficult What is the most difficult thing to do as a judge? For me, is when you are not, it's on the borderline When things are on borderline Then you have really to take the decision, yes or no And sometimes it's really critical One attempt, it can be critical These are the moments that it's more hard But with experience, you can deal better with these situations To stop the motions Yeah, the motions To be objective To be objective is your character Character If you are objective person, you judge objective And I want the gymnastic to be the best one who will win And this is important for me And we as judges have the most job here To really decide who is the best gymnast here Who is the best team here And we have to make our best Yes No other things Yes And you judges come from many different countries But when there are the competition, you stay together How is your connection? You create some friendships? Really, really, really very good friends Like I'm with Donatella, such a long time good friend And because we have the same, the same love to gymnastics And we are people, never mind if I'm from Israel Or somebody is from Italy Yes We have the same job to do And we have the same passion for the sport And we have the same passion for the sport And we are very, very good friends And never mind if you are Israeli or Italian or German We work together like the best friends And I'm happy There are many motivations Yes And this Are you ready for the next Are you road to Tokyo? Are you ready for Tokyo? I hope so I hope I will do my best Because I want to achieve Tokyo also Like the gymnast Also the coaches Also the judges Want to come to Tokyo Amazing Thank you very much You are very kind person Thank you very much And bye I'll see you next time